Un altro Natale non alternativo ma complementare che coniughi insieme musica, spettacoli, ambientazioni e sensazioni. Presentato presso gli spazi del Servizio Cultura del Comune di Napoli a Palazzo Cavalcanti la rassegna Altri Natali. Un inedito palinsesto di eventi per raccontare il Natale rinnovandone la narrazione in programma dall'8 al 30 dicembre sul territorio delle 10 municipalità cittadine. La manifestazione propone una rilettura del canone natalizio-partenopeo combinandolo con forme e contenuti provenienti da tradizioni differenti e con riflessioni che ampliano i concetti di maternità e di famiglia, arricchendoli in termini di accoglienza e di inclusione. Musica, teatro, danza, cinema, laboratori creativi sono gli ambiti in cui Altri Natali trova la sua declinazione artistica. Così Andrea Mazzucchi, consigliere del Sindaco di Napoli su biblioteche e programmazione culturale integrata. Siamo partiti da un'idea che è teologica. Il Natale è uno scandalo perché è il Dio che si fa uomo, che si fa bambino, che a Napoli diremmo diventa una creatura ed è una creatura esula e povera. Napoli ha saputo interpretare da sempre nella sua tradizione questa dimensione di inclusione del Natale e questo programma articolato in una molteplicità di manifestazioni relativi a tutte le arti e che si svolgerà su tutto il territorio cittadino, a testimoniare ancora una volta la dimensione policentrica di questa città che ha un po' caratterizzato le iniziative culturali di questa amministrazione. Altri Natali ha già nel suo titolo il riferimento all'altro, all'inclusione, all'accoglienza, a una dimensione che parte da quello scandalo del Natale per aprirsi a un recupero della tradizione in termini di innovazione. Una risposta importante, quella degli imprenditori, degli artisti, dei siti che ospiteranno gli eventi senza precedenti. Questo è il commento di Sergio Locoratolo, coordinatore delle politiche culturali del Comune di Napoli. In termini di partecipazione questo bando è stato un vero e proprio successo. Abbiamo avuto 112 domande, 38 progetti finanziati, 900 mila euro, come dicevo prima, di importo complessivo del bando per un finanziamento medio per ogni progetto di circa 23 mila euro, 58 soggetti coinvolti tra fondazioni, associazioni, ditte individuali, società e 250 eventi del tutto gratuiti e quindi mi sembra una cosa assolutamente rilevante.